per sempre. Nel 1757 noi, farfalle di possagno, eravamo numerose. Entravamo nelle case della gente e ascoltavamo le loro parole. Come so questo? È semplice. Ci tramandiamo ogni cosa attraverso il movimento delle ali. Raccontiamo alle nuove generazioni quello che è successo prima e ancora prima. Nel 1757 nacque uno scultore che cambiò la nostra vita. Veramente, nei primi anni non si accorse di noi. Ci limitavamo a svolazzare vicino la sua culla e a catturare il suo sguardo. Poi il nonno, Pasino Canova, ci presentò ufficialmente. Vedi, Antonio, questa è una farfalla, l'essere più grazioso che ci sia. Così iniziamo a frequentare la casa. Il nostro maestro era irrequieto e si spostava in continuazione tra Roma e Venezia, però a possagno tornava sempre. Nella casa c'erano tante stanze, ma solo noi e il suo amato cane avevamo accesso alla stanza segreta, quella dove lui creava. All'inizio c'era un disegno, appena accennato, a matita o a china. Noi ci avvicinavamo curiose e a volte ci appoggiavamo sul foglio. Lui, con il pollice e l'indice e con estrema delicatezza, ci prendeva e ci spostava sul davanzale. Da lì vedevamo il giardino di sotto, con le aiuole curate e i pini marittimi. E una calma infinita invadeva il nostro cuore. Allora sorgeva la domanda, ma una statua quanto vive? Per noi farfalle è una domanda cruciale. Dopo il disegno il maestro preparava un bozzetto di argilla, piccolo, poi sempre in argilla una struttura più grande, da cui nasceva il calco di gesso. Dal calco gli aiutanti ricavavano la statua vera e propria che il maestro rifiniva col suo tocco magico. L'ultima mano, così la chiamava. La cosa più straordinaria è successa nel 1797. Una mia antenata si trovava nel giardino della casa quando giunse il calco di una nuova statua chiamata Amore Psiche. Quando si avvicinò per guardarla per poco, non svenne. Era lei, era lei nella mano della ragazza di nome Psiche, nella stessa posizione di quando, per curiosità, si avvicinava ai disegni del maestro. Psiche teneva tra il pollice e l'indice le ali di una farfalla. In quel momento un pensiero illuminò la testa della mia antenata ed era la risposta alla nostra domanda. Quanto vive una statua? Per sempre, urlò lei felice, ma nessuno la sentì. Grazie. 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 Grazie.